Io sono Ezio Danne, ho incominciato a fare la vaneri 24 anni fa facendo dei corsi, ho fatto 5 anni di corsi per iniziare a fare questa vaneri e sono 20 anni che faccio le fiere, sia quella estiva che l'invernale. È un lavoro che mi piace perché ormai è diventato quasi un lavoro. Ci sono delle giornate che passo 10 ore al giorno a fare cestini perché soprattutto quelli tradizionali ci vuole un sacco di tempo, ci vuole molto molto tempo per intrecciare un cestino. Da bambino durante le scuole ho fatto l'istituto professionale e ci portavano a vedere la fiera, però sicuramente non al reparto vaneri perché ci portavano a vedere il legno, io facevo la legnameria, ci portavano a vedere i manufatti fatti dagli artigiani come mobili e quant'altro, tavoli, sedi e tal. La fiera di Sant'Orsa è unica, ma ci sono delle volte che vai lì apposta per vedere magari la persona che la vedi una volta all'anno e vengono lì, ti contrattano oppure parli, fai quattro parole, quattro tecchierate insieme, è una cosa stupenda per me.